BAMMA LAMMA BAMMA LUCANAGEN NEL LUCINA We call her the great prince in the world Come yeah, NEL LUCINA Ho un modello di scienziato salarian Studiato specie turian, asaria e battarian Sono molto bravo con genetica e biologia Perché esperto io sono questa età autologia E' grande esperto di scienze urbanistiche agraria Perché sono modello perfetto di scienziato salarian Se guarda il tuo... Se questa è la più folle esibizione che ho visto nella mia... Io non riesco a capire Chiacci subito il pulsante